Sono Marta Massiero, 29 anni, lavoro in Ducati Corsi come progettista motore e sono una grande appassionata di motociclismo. Sono ingegnere meccanico e sono laureata al Politecnico di Milano nel 2013. Appena laureata ho inviato la mia candidatura spontanea sul sito Ducati. Nel Ducati Corsi mi occupo della progettazione dei motori superbike, quindi il motore bicilindrico e anche il nuovo progetto V4. È stato mio padre a trasmettermi questa passione. È stato lui a portarmi alle prime gare motociclistiche. Insieme a Gnano andavamo a Munza per la tappa italiana del mondiale superbike. Il mio sogno da piccolo era di fare l'ingegnere di pista. Ho sempre sognato di vivere in prima persona a tutti gli eventi di weekend di gara e di contribuire alle scelte tecniche della squadra. Nonostante abbia passato gran parte della mia vita sui libri, mi è sempre piaciuto sporcarmi le mani. Quindi durante i periodi dell'università ho fatto esperienza in una piccola autofficina a Cremona, nella mia città. Quando sento un motore Ducati cantare mi sento orgogliosa e molto fortunata perché fuori in piccola parte ho contribuito a realizzare un capolavoro di tecnologia che è invidiato da tanti. È un grande orgoglio vedere una moto Ducati che supera il suo rettilineo tutte le altre grazie alla potenza del suo motore. Dopo tanto lavoro sui motori finalmente sto diventando motociclista anch'io. Ho l'esame tra pochi giorni, non vedo l'ora, non vedo l'ora di salire in sello sulla Ducati. A tutte le donne appassionate di motori vorrei dire che fare della propria passione un lavoro è la cosa più bella del mondo.